Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori panche da palestra e vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 delle migliori panche da palestra Quindi cominciamo con la panca Flybird Questa prima panca da palestra è una panca classica che sarà perfetta per i principianti o per le persone che non hanno necessariamente bisogno di molta attrezzatura Tuttavia questa panca è molto pratica perché vi permetterà di lavorare tutto il corpo Infatti avete in particolare un supporto per la parte inferiore delle gambe per effettuare esercizi di rinforzo addominale Inoltre questa panca da palestra può essere inclinata il che è ideale per lavorare tutti i muscoli in tutti i loro dettagli Questa panca sarà perfetta per lavorare i tuoi muscoli pettorali con le bench press o le pressioni inclinate ma anche la tua schiena con le remate, le tue spalle con le pressioni militari e infine i tuoi bicipiti e tricipiti con i diversi curl Infine la panchina è comoda e traspirante ed è fatta di pelle che è durevole e resistente Poi troviamo la panca body solid Stiamo andando verso l'alto con questa panca da palestra che ti permetterà di costruire tutto il tuo corpo con tutti gli esercizi che puoi fare con essa Rispetto alla precedente questa panca è più completa e quindi ideale per coloro che sono veramente motivati a prendersi cura del proprio corpo Infatti questa panca da palestra ha un supporto per la barra standard o olimpica Per fare bench press per esempio Avete anche uno spazio per lavorare le gambe facendo il leg curl Naturalmente la panca da palestra può essere inclinata per lavorare tutti i vostri gruppi muscolari e darvi un allenamento completo del corpo Naturalmente potete anche lavorare sugli addominali con questa panca E per finire ecco la panca multifunzione Physionics Con questa panca da palestra potrai andare ancora più lontano nell'allenamento con i pesi perché gran parte degli esercizi di allenamento con i pesi più famosi sono disponibili con questa macchina Bench press, incline press, back pull, rowing, curl, leg curl, sit up Hai tutto a disposizione per scolpire il tuo corpo alla perfezione e per essere sano Inoltre per tutte le caratteristiche che offre questa panca da palestra è di ottima qualità E molto comoda e traspirante E anche abbastanza compatta Il che rende facile avere in casa un set di allenamento con i pesi Economico, pratico e facile da usare Ecco, grazie per aver seguito questa top 3 Spero che ti sia stata utile Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale È sempre un piacere Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video